Ciao, questo è un nuovo video che insolito faccio sui film che riesco ad andarmi a recuperare nel guardare, che mi sono andato a vedere l'ultimo film che è uscito su Diabolic, il film proprio si chiamava Diabolic Chi Sei, che anche se è uscito il 30 di novembre al cinema, che mi sembra che la data d'uscita è quella di che sto tipo andando a memoria sulla data d'uscita, ma posso magari anche sbagliarmi, però mi ricordo che a novembre, il suo mese più o meno era il periodo di uscita al cinema, era quello lì verso novembre del 2023, ma io sono riuscito a recuperarlo solamente adesso nel guardarlo che grazie magari a qualche abbonamento magari su qualche piattaforma, poi adesso lo si può magari anche guardare tramite che su qualche piattaforma, se qualcuno ha qualche abbonamento, adesso che è passato anche qualche mese, ho visto che l'hanno messo sulle solite magari piattaforme e si può guardare anche gratis come film, come si dice che essendo Diabolic, essendo magari un film su Diabolic, logicamente magari il solito film, magari italiano, che come genere e azione, che come regia di questo Marco Manetti, cioè Marco e Antonio Manetti, questi due registi ci sono in questo film, e essendo sempre un film, ho visto che magari come quelli precedenti hanno sempre messo, come si dice, sempre attori italiani e magari la parte proprio di Eva Kent, ho visto che hanno messo hanno messo Miriam, Miriam e Leone a fare la parte proprio di Eva Kent, che due, quelle due ore di film, due ore e cinque quasi di film, che magari essendo magari anche due ore, ho visto che magari anche come trama e anche magari il tipo di film, anche se magari su certe cose può essere, magari che ti possono passare anche velocemente anche velocemente, perché come trama magari ho visto che meritava e non ci sono magari parti, magari come in certi film, magari che ti puoi magari hanno annoiare o qualcos'altro, però sono due ore magari lineari che ti passano anche in fretta, che parla proprio a, che sono, sono a proprio a Claireville, la signorina, che la signorina Bauer, che la signorina Bauer, che lavora in banca, viene rapinata proprio da Diabolik e da Eva Kent, che assumono la sua magari identità dopo averla e che la signorina Bauer, che è stata addormentata e l'obiettivo è quello mai, è quello di rubare le preziosi monete di, della, della, della contessa, eh, ma una spettata banda di criminali ha avuto la stessa idea e dopo una violenta rapina in, eh, in banca, eh, uccide la contessa e scappa, e scappa con il bottino, eh, ma, eh, Diabolik e gli scrittori Ginko si mettono, eh, sulle, sulle, magari sulle tracce e il primo, eh, come si dice, il primo, eh, è aiutato da, da Eva e l'altro dal fedele, il sergente Palmer, che per intracciare la gang che espirono in trampi, eh, 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 questa è Lisa Cohen, è moglie di uno dei malviventi che, eh, che, eh, ha perso, Amore, eh, che ha perso Amore anche la vita e tramite lei, ed lei, eh, riescono Amore a scoprire la villa dove, eh, dove si, eh, dove si nascondono, che più che altro Amore la trama del, del film, eh, era questa qua che magari ho visto che come film magari era come magari agli stessi livelli magari dei precedenti che avevano fatto sempre ultimamente su Diabolik che magari a chi piace magari il genere questi qua magari film su Diabolik ho visto che come genere ci poteva anche stare che magari anche essendo magari anche italiano come film magari e magari fatto anche bene essendo su essendo magari un film su Diabolik e niente che Marei come ho detto prima Marei si è fatto Marei solamente Marei da attori italiani essendo Marei Diabolik essendo Marei italiano hanno messo tutti Marei personaggi italiani e niente che Marei quello che poterò Marei dire su questo film Marei l'ho già detta al massimo Marei ci vediamo sicuramente Marei più avanti con i miei soliti video che porto Marei sul canale che Marei qualche informazione in più Marei sempre sul film Marei faccio come al solito di Marei di metterla Marei sotto Marei in descrizione tra Marei tra gli attori che hanno partecipato in questo film e Marei altre Marei informazioni sempre sul sempre su questo film come ho visto che c'è anche dentro Monica Bellucci e come al solito anche nei film Marei precedenti di Diabolik c'è Valerio Massandrea che fa la parte proprio di D5 e niente che Marei quello che poterò Marei dire su questo film Marei l'ho già detta e al massimo ci vediamo sicuramente Marei più avanti con i miei soliti video che porto Marei sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao